Ok, quello di cui vi parlo oggi è una breve produzione, o meglio un rifasso, un po' di progettazione, che riguarda un po' di analisi statistica e un po' di probabilità, dove io ricordo alcuni concetti che a mio parere voi dovreste conoscere già, mi dovrebbero essere noti, ma che comunque sono essenziali la comprensione di alcune cose che facciamo dopo e in particolare che cominceremo a fare la settimana prossima nell'analisi dei dati più biometrici. Questa prima lezione riguarda l'analisi statistica e in particolare quello che mi interessa è di introdurre alcuni concetti, in particolare il concetto di campione e il concetto di popolazione. Sono tutti concetti elementari, quelli che vado a ricordare, che non richiedono particolari conoscenze, particolari sforzi, ma sono tuttavia necessari. Ho fatto la verifica sperimentale che quando queste cose non le racconto, alcuni risultati successivi poi rimangono oscuri nella mente dei miei studenti. E quindi le faccio, almeno fino a che non vanno a corsi elementari precedenti, non recuperano queste cose. Allora, l'interessa statistica elementare assume che noi di un certo fenomeno si possa prelevare un campione. Tutti i casi possibili che possiamo immaginare di poter prendere sono la popolazione di un determinato fenomeno. Quindi tanti campioni, una sola popolazione. La popolazione dipende da qual è la cosa che stiamo investigando perché se stiamo analizzando per esempio la testa e la croce di una moneta, la popolazione è costituita da due semplici elementi, la testa e la croce. Però questi elementi li posso combinare in tantissime combinazioni, per esempio posso costruire delle sequenze di testa o di croce con la quale per esempio posso virtualmente costruire tutti i numeri. Quindi dipende anche non solo dall'insieme che sto analizzando ma come poi lo utilizzo. Questo aspetto così, se vogliamo, soggettivo è ovviamente importante. Il campione è noto, è quello che noi conosciamo della realtà. La popolazione in generale non è nota, in alcuni casi è nota e in moltissimi altri casi non è nota. In particolare la popolazione dei fenomeni piovosi, cioè le altezze pluviometriche che noi andremo ad usare per la nostra progettazione, non sono in generale note. Una questione sulla quale ritornerò più avanti è che queste popolazioni o questi campioni costituiscono delle estrazioni a caso di certi fenomeni, cioè siano descritti le regole di casualità. Casualità è, se volete, l'opposto di causalità. Semplicemente uno spostamento di due lettera, lo shift di una lettera cambia completamente il senso. Noi non sappiamo bene che cos'è casuale, che cosa non è casuale. Sappiamo definire degli eventi casuali quando questi, esiste una legge che correla, per esempio, che ne so, una data per esempio con un determinato fenomeno, un fenomeno con un altro fenomeno. Però anche qui mi rendo conto mentre lo dico, la questione non è così semplice da delineare quando si tratta di dati che vengono presi in natura. Generalmente, per esempio, la registrazione di una sequenza di precipitazioni è il mio scrittatore. La sequenza delle serie di precipitazioni è una sequenza irregolare. Noi non sappiamo se veramente al di sotto di questa sequenza ci stia un fenomeno deterministico. Anzi, possiamo pensare che sia in questo caso dei fenomeni deterministici. Però l'irregolarità che noi osserviamo nei dati ci fa supporre che ci siano degli elementi che sfungano un determinismo banale. Anche quando i fenomeni sono descritti da fenomeni sono complessi, noi usiamo comunque l'armamentario della statistica e della probabilità. Sulla popolazione si fanno delle ipotesi. Vi dicevo una serie di dati irregolari. Per esempio, queste sono le temperature misurate a Bergamo. Sono le temperature, immagino siano le temperature settimanali o mensili misurate nel corso degli anni. Come vedete è un record molto irregolare. Allora, che cos'è che genera la temperatura? Che genera la temperatura è il diraggiamento solare, più tutti gli scambi termoconventivi che avvengono nell'atmosfera, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dei fenomeni che in linea di principio sono deterministici. Però la registrazione è molto irregolare e noi comunque per comprenderla la analizziamo dal punto di vista statistico. Questa sequenza è una sequenza di dati, quella che rappresentiamo. La sequenza di dati la possiamo rappresentare in varie forme diverse. E quando noi la rappresentiamo in una forma oppure in un'altra, noi stiamo già facendo una prima elementare analisi statistica dei dati. Come vedete sotto, gli stessi dati di sopra sono avrangiati in una rappresentazione diversa. Cioè raggruppiamo degli intervalli elementi di temperature e contiamo quante volte abbiamo misurato una certa temperatura e costruiamo quello che tutti voi sapete essere un histogramma. Anche questa è una rappresentazione dei dati. Questa si chiama serie temporale per la norma e questo si chiama histogramma, come voi sapete. quelle lì non sono gli unici modi per rappresentare una serie di dati. Per esempio, sicuramente avete da qualche parte imparato che cos'è una espansione in serie di Fourier di qualcosa, si può analizzare si possono analizzare gli stessi dati dal punto di vista delle frequenze, cioè quanto una serie, un certo dato, per esempio, si ripete o quanto ciclicamente si ripete. Allora, ci sono rappresentazioni, per esempio, come sovrapposizioni di segni e di coseni. Questa si chiama rappresentazione nello spazio di Fourier dei dati. Una rappresentazione alternativa ogni tipo di rappresentazione porta con sé delle informazioni che sono di per sé maggiormente evidenti. Un'altra rappresentazione che qui non ho portato, per esempio, è quella con le wavelet ondine. Un altro sviluppo in serie, tipo quello di Fourier, però con delle altre funzioni di base che si chiamano wavelet. Allora, noi abbiamo un campione che possiamo rappresentare, come vi abbiamo mostrato prima, l'inferenza statistica è proprio di trarre dal campione informazioni sulla popolazione, facendo delle ipotesi. Lì, è detto, estratte a caso dalla popolazione. La faccenda dell'estrato a caso è, come ho tentato di dirvi dall'inizio, una faccenda piuttosto delicata, perché se in alcuni casi sappiamo che ci sono delle dipendenze causali tra determinati fenomeni, non sappiamo veramente bene che cos'è il caso. Noi sappiamo che le serie e le cose possono essere molto irregolari, ma che siano casuali, questo non sempre, non siamo generalmente, o meglio, non siamo facilmente in grado di dirlo. Rappresentando l'istogramma, una nozione che io ho cercato di darvi è quella che, una cosa importante, è la distribuzione del campione, cioè non la distribuzione temporale, quella era la serie temporale, ma la distribuzione in cui si contano quanti elementi assumono o quante volte si ripete uno stesso valore. Gli esperimenti statistici, nel nostro caso, sono delle misure. Sono delle misure, questa sì che è una bella riproduzione delle slide. Le misure, nel nostro caso, sono una sola misura, spesso, una sola serie di misure di temperatura, una sola serie di misure di altezza e di precipitazione. Non abbiamo a disposizione di un'altra terra in cui noi possiamo ripetere il tempo, farlo variare in qualche modo e controllare, per esempio, nel caso, le precipitazioni per avere un secondo esperimento. Tuttavia, in moltissime delle analisi che noi andremo a fare, supponiamo che comunque il nostro campione sia il prodotto di un esperimento in linea teorica ripetibile, dal quale posso estrarre un altro campione. Ci sono, per esempio, alcune questioni legate alla statistica, che sono, per esempio, il test delle ipotesi, si chiama, che è centrale in statistica, anche se io non ne parlerò oggi, ma ne faremo un esempio pratico quando avremo i nostri dati a disposizione, il test delle ipotesi funziona proprio su questo concetto, che noi si possa ripetere, almeno idealmente e infinitamente, l'esperimento. Allora, vediamo che cos'è una distribuzione empirica dei dati. Noi abbiamo una serie temporale. Una serie temporale, nel nostro caso, è sempre una serie discreta di dati, anche se in alcune situazioni noi potremmo pensare di rappresentare i dati con delle curve continue, cioè definite per ogni numero reale, ma la serie di misure che noi abbiamo sono comunque una serie di campionamenti discreti, ottenuti a tempi discreti. Qui li ho chiamati H1 ed Hn. Se io ho un insieme di dati, posso prescindere dall'ordine temporale. Questo H1 ed Hn, in questo caso, è una serie temporale. Non sempre in statistica ho a che fare con serie temporali, perché io posso, per esempio, fare, ripetere lo stesso esperimento n volte contemporaneamente. La statistica, così come pure la probabilità di per sé, non avrebbe a che fare con la causalità, ma con l'associazione tra gli elementi, questo va tenuto a mente. Però qui ho una serie temporale, comunque. N elementi presi in fila nel tempo. Quello che faccio è li ordino in maniera crescente, cioè la serie Hj, che è il cappello che io ho scritto sotto, è una serie in cui H1 è minore di H2, che è minore di Hn. Posso a questo punto contare, per ognuno degli elementi che io ho qui, quanti elementi precedono un certo valore. Per esempio, vado su H1, quanti elementi precedono H1? Beh, se metto precedono, sono uguali ad H1, ne ho 1. H2, quanti elementi ho minore o uguali di H2? 2. E così via, fino ad arrivare ad n. Poi posso dividere per il numero di elementi che ho nel campione n. Quello che scrivo qui, in effetti, è proprio questo. Costruisco questa curva che si chiama Empirical Cumulative Distribution Function. Funzione di distribuzione cumulativa empirica dei miei dati, contando per ogni dato quanti dati lo precedono e dividendo il numero totale per il numero totale dei dati. Se divido per il numero totale dei dati, il numero più grande che ottengo è 1. Quindi la distribuzione empirica cumulativa dei dati, che dal punto di vista algoritmico si può ottenere con queste due operazioni l'ordinamento della serie temporale e poi la conta di quanti elementi precedono un certo elemento, un elemento geiesimo, è quindi una curva che va fra 0 e 1. Questa è una rappresentazione di una distribuzione di dati di questo tipo. e vorrei dire uno dei concetti centrali su tutto quello che noi faremo, la curva empirica di distribuzione. Ognuno dei pallini che vedete rappresentato lì rappresenta un dato. Se contate tutti i pallini che stanno a sinistra, sono tutti i dati che hanno un valore inferiore all'elemento misurato. Un altro nome per questa quantità è curva di non superamento empirica. Empirica perché qui ho i dati opportunamente misurati. Queste sono precipitazioni che vanno in questo caso da 19 a 87 millimetri. Sono precipitazioni orarie. E' una serie di precipitazioni che poi noi andremo a vedere. Anzi, l'avete già vista perché nella scorsa lezione che vi ho fatto con Python quella serie di precipitazioni di Paperopoli la prima colonna è proprio rappresentata qui. Un altro concetto statistico relativo, relativamente importante, è quello dei quantili. In particolare mi posso chiedere qual è il numero di elementi o la frazione di elementi non il numero di elementi, perché qui il numero di elementi lo fisso io. Dico qual è la posizione, l'altezza di precipitazione tale per cui metà degli elementi stanno a sinistra e metà degli elementi stanno a destra di quel valore di precipitazione. La curva empirica qui che io ho ottenuto è una curva, come vedete, che assegna una corrispondenza, cioè non è una curva, è un insieme di pallini, ma se la interpoliamo in qualche modo che rappresenta un legame più univoco fra la scissa che è l'altezza di precipitazione e quella che qui ho chiamato probabilità mettendo P, ma intanto per noi è la frequenza empirica di non superamento e mi domando qual è il valore di H tale per cui metà dei pallini stanno a sinistra e metà dei pallini stanno a destra. Allora per fare questo dico, beh, prendo il valore 0,5, mi vado a selezionare l'impunto sulla curva empirica, inverto la curva e calcolo questo valore che sarà 37, per esempio, millimetri di precipitazione in questo caso. Cosa significa questo 37 millimetri di precipitazione? Significa che il 50% dei valori misurati è inferiore al 37 millimetri, il 50% è superiore al 37 millimetri. Questo valore si chiama mediana della distribuzione. con 0,5 quantile. Questo concetto si può generalizzare. Dice, beh, per lo 0,5 quantile mi piace dividere a metà il mio campione, però perché non dividerlo in quarti, cioè quelli che si chiamano quartili. Allora, se lo voglio dividere in quarti, devo considerare lo 0,75 quantile, lo 0,50 quantile e lo 0,25 quantile. O quartile superiore, mediana e quartile inferiore. E come vedete ho ottenuto lo stesso diagramma di prima, però qui con tre curve, e vedete che ottengo naturalmente tre valori corrispondenti a ciascuno dei quartili sull'asse delle precipitazioni. ne consegue qui che in realtà posso dare una rappresentazione sintetica della distribuzione dei miei campi attraverso questo diagramma che si chiama diagramma a scatola. Questo diagramma a scatola è un rettangolo il cui limite inferiore è il quartile inferiore. La linea in mezzo è la mediana, la linea a destra, a destra in questo caso, è il quartile superiore. Poi ci sono altri due elementi che sono i baffi. Questi baffi vengono costruiti generalmente in modo automatico rispetto a quello che facciamo noi, in base ad alcune ipotesi sui dati, in cui dice se i dati fossero distribuiti, avessero un certo tipo di distribuzione probabilistica, però ancora noi non sappiamo che cos'è, allora dovrebbero stare tutti e due, dovrebbero stare tutti dentro questi baffi, dentro questo intervallo di valori, vedete l'intervallo di valori qui va, che ne so, tra 25 e 68 diciamo. E quindi danno una rappresentazione statistica completa che si può utilizzare sempre per rappresentare i miei dati. Il diagramma a scatola, poi noi li useremo in pratica questi diagrammi a scatola. E con questo abbiamo finito la prima parte elementare che riguarda le statistiche. Quindi le statistiche trattano, ricapitolando, il concetto di campione, il concetto di popolazione, la popolazione non è nota e il campione è noto. Dal campione vogliamo inferire la qualità e anche i parametri quantitativi della popolazione, facendo delle ipotesi. Il primo passo che facciamo è quello di costruire la curva empirica cumulativa di distribuzione dei dati. E su questa curva empirica di distribuzione dei dati possiamo considerare i quantili. In particolare abbiamo visto come si rappresenta il quartile superiore e la mediana e il quartile inferiore. Grazie. Grazie.